Ha ignorato il divieto di avvicinarsi alla sua ex e così è finito in carcere. La polizia di frontiera di Domodossola nella serata di sabato ha eseguito l'arresto di un domese classe 1987 su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Verbagna come aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convivente. Un provvedimento previsto nell'ambito della legge sullo stalking che i poliziotti domesi gli avevano notificato già tempo fa. Il 32enne però non ha rispettato il divieto, è andato nuovamente a importunare la donna e così per lui sono scattate le manette. Nei casi di stalking infatti la normativa attuale prevede che per chi non rispetta le prescrizioni del giudice si aprano le porte del carcere e così è avvenuto per l'ossolano.